Siamo con Paolo Righi, Presidente nazionale di Fiaip e siamo nell'ultimo giorno di Eiree, il Salone del Real Estate. Secondo me è molto significativa la tua presenza in questo Salone qua perché sancisce un po' quello che forse io e te da tempo stiamo dicendo, che il ruolo degli agenti immobiliari non è separato dalla filiera del mondo immobiliare. Mi pare che sempre più anche si affatica questo concetto entri nella mentalità degli operi. Sì, questo concetto che stiamo cercando di diffondere come idea fondante per un nuovo modello distributivo anche dei fondi immobiliari. Oggi vediamo un mercato contratto, un mercato che ha pochi sbocchi soprattutto per le vendite e la funzione aggregatrice delle associazioni di categoria diventa fondamentale proprio per creare rete su quelle piccole realtà che sono le agenzie immobiliari ma che unite insieme riescono a creare una forza vendita molto forte. Quindi l'associazione cerca di cambiare le modalità di interposizione tra la filiera dell'immobiliare e quelle che sono le realtà di vendita perché troppe volte gli agenti immobiliari sono stati relegati al solo settore delle famiglie. Oggi siamo convinti di poter dare qualcosa di più, di poter riuscire a far uscire questo settore da una crisi che è ormai evidente a tutti. Anche perché Paolo, questo è un mio modestissimo parere ma che è emerso in questi giorni qua, noi siamo rimasti soli, intendo dire come comunità del real estate. Contavamo sulla politica ma abbiamo capito che la politica qui non ha voglia di interessarsi del nostro settore, non ha capacità, non sappiamo perché non lo fa. Contavamo sulle banche che potessero dare una mano ma abbiamo capito che hanno mille altri problemi che forse non ce li vogliono dire tutti, per cui mancano questi due pilastri e quindi quando si rimane soli bisogna fare anche squadra, bisogna fare anche sinergia tutti assieme. Io credo, e l'ho sempre detto, che la gente immobiliare possa dare molto di questa cosa qui. Forse, e qui mi rivolgo al Presidente dell'Associazione, Purtroppo siete, adesso dico siamo, ma scusami, siete visti per gli esempi negativi e non per quelli positivi. Certo, intanto sicuramente c'è una nomea sugli agenti immobiliari che non è delle migliori, ma questo perché negli anni passati non c'è stata una regolamentazione della nostra professione. In qualità di Presidente di FIAI posso assicurare che la qualità degli agenti immobiliari italiani è molto alta ma non è mai stata valorizzata ed espressa proprio perché manca una legge che consenta questo. È vero, siamo soli, il settore immobiliare è solo, nonostante gli interventi che molto probabilmente verranno approvati in Consiglio dei Ministri sul decreto sviluppo, il settore immobiliare è solo anche perché la politica percepisce il nostro settore ancora con le politiche delle emergenze abitative. Siamo rimasti ai piani fanfani per la casa, questo è lo stato con cui la politica recepisce il settore dell'immobiliare. C'è bisogno di vedere questo settore con occhi nuovi, pensando alla requalificazione energetica, pensando al fatto che nello stock di invenduto oggi in Italia ci sono circa 1.200.000 immobili di nuova costruzione o in termine di costruzione. Sono bloccati dalle banche, non si vende e le banche hanno un debito sulla filiera, un credito nei confronti della filiera di 50 miliardi di euro. Allora se le amministrazioni comunali la smettessero di vedere il settore immobiliare solo nell'attività di costruzione di PEP o di social housing, che era un piano bellissimo ma andava bene due o tre o quattro anni fa, e si rivolgessero invece a percepire questi immobili questi immobili che sono lì, che fanno parte del patrimonio, allora forse riusciremo a svuotare il magazzino e a ripartire e a guardare con occhi nuovi appunto questo sistema. Sistema che purtroppo anche nei suoi attori principali, mi spiace dirlo, non ha ancora autonomamente trovato una strada per uscire dalla crisi. Le banche stanno soffrendo tantissimo, anche noi come settore immobiliare siamo stati colpevoli perché negli anni passati tutti abbiamo goduto di questo banchetto infinito che era il subprime immobiliare e quindi ora facendo ammenda però e recuperando come solo noi italiani sappiamo fare abbiamo bisogno di fare squadra e fare sistema. Paolo se io fossi un tuo agente immobiliare e sapessi che purtroppo questa crisi a parte che nessuno sa quanto dura ma di sicuro non si chiuderà in breve termini e ti dicessi Paolo che cosa devo fare io agente immobiliare in questo momento? Ma è quello che vado dicendo, che la FIAI va dicendo da tempo, oggi il cliente soprattutto in questo momento di crisi ha bisogno di un agente immobiliare che conosca perfettamente il mercato, di un agente immobiliare in cui la parte consulenziale di conoscenza del mercato venga espressa ai massimi livelli. Mi spiego meglio, oggi ci sono fior di affari nell'immobiliare che però visto la brutta pubblicità che in questo momento sta facendo il governo, stanno facendo le banche sull'immobiliare non vengono percepiti dai clienti. Allora è lì la funzione dell'agente immobiliare a livello consulenziale di poter spiegare al cliente dov'è il vero affare. E un'altra cosa molto semplice ma che purtroppo in Italia non è possibile, io dico sempre andate a Berlino e guardate le vetrine delle agenzie immobiliari. A Berlino c'è il prezzo dell'immobile e il rendimento netto che quell'immobile dà all'investitore. In Italia non è possibile perché non sappiamo nemmeno quanto dovremmo pagare di IMU perché il governo si è riservato di dircelo a fine dicembre. Quindi in un paese che non riesce nemmeno a far conoscere ai propri cittadini quant'è il carico fiscale per poi poter mendere al meglio in questo paese è difficile fare il real estate ed è difficile guardare il futuro.